Lo sviluppo dell'aeroporto Vespucci torna nuovamente al centro della polemica politica contro la quale si schierano i vertici di Toscana Aeroporti che ribadiscono non c'è alcuna contrapposizione tra gli scali di Pisa e Firenze e alla questione del collegamento ferroviario con Pisa ritenuto carente l'amministratore delegato Roberto Naldi ribadisce che fin dal 2015 Toscana Aeroporti si è sempre detta favorevole al miglioramento della tratta Pisa-Firenze e che sorride quando legge che un treno veloce tra Pisa e Firenze farebbe venire meno lo scalo fiorentino Occorre cambiare prospettiva, dice Naldi, e pensare ai lavori che andranno a migliorare il Galilei con partenza prevista il prossimo autunno e il Vespucci con la realizzazione della nuova pista adatta ad aerei più moderni e meno inquinanti che porterà a una riduzione significativa del rumore per 30.000 abitanti dei quartieri di Quaracchi, Brozzi e Peretola un obiettivo sposato anche dalla Regione che ritiene strategica la qualificazione dello scalo come previsto anche nel programma di governo 2020-2025 nell'ambito del piano straordinario di investimenti per una Toscana più moderna e competitiva lo ha voluto ribadire anche l'assessore alle infrastrutture della Regione Stefano Baccelli rispondendo a un'interrogazione della consigliera Cristina Giacchi ripetendo come il loro partito, il PD, non ha cambiato affatto idea sulla questione questo è un'interrogazione der Mercy l'annubezza variettivo non ha bisogno di stimerciSE